Da lunedì 24 maggio pomeriggi speciali al poliambulatorio vaccinale del Policlinico Riuniti di Foggia. In linea con l'informativa della struttura commissareale del 17 maggio 2021, da lunedì prossimo infatti presso il poliambulatorio vaccinale dell'Unione Operativa Complessa, Igiene, Ospedale d'Avanzo del Policlinico Riuniti, mentre prosegue la vaccinazione dei soggetti fragili e di quelli prenotati per età, prendono avvio i pomeriggi dedicati all'accesso spontaneo dei familiari conviventi, caregiver, genitori, tutor o affidatari dei soggetti in condizioni di estrema vulnerabilità, di disabilità grave o affetti da malattia rara e persone da 40 anni in su, nati nel 1981 e prima, che siano interessati a ricevere i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson. Saranno disponibili 100 appuntamenti al giorno fino ad esaurimento dosi, presentandosi liberamente dalle ore 14.30 alle ore 16.30 all'ambulatorio del Centro Unico prelievi dell'Ospedale d'Avanzo in Viale degli Avatori, muniti di tessera sanitaria e documento di identità ed esibendo la comunicazione informativa fornita dal Policlinico Riuniti di Foggia.